Importante sinergia italo-francese nell'ambito dei progetti da mettere a punto in vista della programmazione europea 21-27. Individuare interventi comuni di ampio respiro, evitando dannose sovrapposizioni, può rappresentare infatti il valore aggiunto e la carta vincente per non perdere i finanziamenti messi a disposizione della comunità europea. La volontà e l'impegno di portare avanti la collaborazione tra le camere di commercio dell'area transfrontaliera è stata ribadita oggi nell'incontro di Imperia dopo quello dei giorni scorsi a Nizza. L'importanza dell'incontro di Erno nelle parole di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. È una importantissima riunione perché oggi ad Imperia siamo molto contenti e ringraziamo gli intervenuti. Abbiamo la Camera di Commercio di Nizza, la Camera dell'Artisanà, la Camera di Commercio di Cuneo. Stiamo facendo il punto di ripartenza sulla nuova programmazione, progetti Alcotra e quant'altro fondi europei. Questi tre territori sono cementati da antichi legami, da antichi rapporti. Vogliamo implementare anche le professionalità a sostegno del lavoro che andiamo a svolgere e credo che insieme alle altre istituzioni, regioni e Liguria, per quel che ci compete e naturalmente gli omologhi faranno altrettanto, la provincia di Imperia, riusciremo ad avere importanti risultati. È un momento economico estremamente difficile, fra l'altro condizionato anche da eventi di tipo internazionale, ma noi dimostriamo di essere sul pezzo, siamo presenti ai massimi livelli e quindi grazie ai nostri collaboratori riusciremo credo a costruire dei percorsi per catturare queste risorse a livello nazionale e internazionale. Non dimentichiamoci il PSNRR e quindi ci stiamo attrezzando e confrontandoci per avere obiettivi comuni. Il Presidente Lupi ha confermato l'importanza della triangolazione Imperia-Cuneo-Nizza per raggiungere traguardi importanti in chiave europea. La conferma ci arriva anche da Giorgio Chiesa, componente del Consiglio e della Giunta Camerale di Cuneo. Ha usato le parole giuste, è sempre più fondamentale, innanzitutto siamo orgogliosi di poter partecipare come Camera di Commercio di Cuneo. Le sinergie dei territori dell'Imperiese e della Costa Azzurra si fondono con quelle delle montagne di Cuneo. In Comune le due province, le due aree hanno la montagna. Voi avete la giunta del mare, noi abbiamo la montagna scistica. In tutto questo il confronto si basa sull'aumento della competitività turistica, commerciale e sociale attraverso il rafforzamento della cultura del turismo e del commercio. laddove ci si incontra in questo triangolo simbolico per poter portare l'inclusione a tutta la popolazione che frequenta anche la montagna. L'importanza dell'incontro odierno nelle parole di Anne Lekasinski, rappresentante della Camera di Commercio di Nizza. La Camera di Commercio di Nizza è oggi qui per lavorare con le Camere di Cuneo e della Liguria. Sono incontri molto importanti per operare insieme come fatto negli anni scorsi in modo da assemblare progetti di livello europeo. Siamo qui con i nostri team che hanno lavorato negli ultimi anni con molti successi nella concretizzazione dei progetti realizzati insieme. Noi abbiamo molto successi nella concruttazione dei progetti che noi facciamo tutti insieme.